prepariamo insieme gli involtini di peperoni prosciutto e mozzarella lavate ed asciugate i peperoni quindi sistemateli nella friggitrice ad aria o anche nel forno cuoceteli nella friggitrice ad aria a 200 gradi per 10 minuti quindi trascorsi 10 minuti girate i peperoni per una cottura uniforme continuate la cottura per anche 10-15 minuti trascorso il tempo di cottura trasferite i peperoni in una ciotola e ricopriteli con carta pellicola o con un piatto eliminate la pelle dai peperoni vedrete che con questo metodo diventerà semplicissimo naturalmente i peperoni dovranno essere freddi procedete così anche per gli altri peperoni dividete in falda i peperoni salate pepate aggiungete il prosciutto la mozzarella o il formaggio che preferite e avvolgete formando gli involtini adesso avvolgete tutti i peperoni adesso prepariamo la panatura aggiungete in un piattino il pane raffermo grattugiato il formaggio il prezzemolo e l'aglio tritati e mescolate aggiustate di sale e pepe aggiungete un filo d'olio e mescolate ancora passate tutti gli involtini nella panatura e sistemateli in una tella oliata cuocete quindi in forno a 180 gradi per circa 20 minuti o in frigitrice ad aria a 170 gradi per lo stesso tempo ecco qui i peperoni cotti pronti per essere serviti ciao a tutti e buon appetito ciao a tutti Grazie a tutti.